Chiudiamo come di consueto con la Bundesliga. Bayer-Urdingen, Bayer-Monaco in maglia bianca, 1-1. In battaglio i rossi di Monaco con il Bomber-Wolfart, che di testa anticipa il portiere. Pareggio nel finale di partita, opera di Fack. Bello il colpo di testa, di piede poi non perdona. Ieri si è chiuso il girone di...